If I am crazy E saluto ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Daniele e oggi siamo qua su Train Fever Allora ragazzi come vi ho detto qua La ferrovia Finisce E quindi noi Dobbiamo Allungarla fino a qua Per voi Poter oppure fare da qua A qua ecco Una linea lì a lì Potrebbe andare bene anche Oppure allungare questa solo fino a qua Bene adesso vediamo Allora Io direi intanto di costruire una stazione Ah pure qua abbiamo messo i tram Ah vabbè adesso Magari provvediamo all'elettrificarla E a mettere nuovi veicoli Ok allora Facciamo che prima elettrifichiamo la roba del tram Perfetto Perfetto Beh Qua 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 E qua Perfetto Poi abbiamo anche questa qua Bene Qui manca E questa qua E poi anche questo qua E questo qui E poi Qui non c'è l'altra Benissimo Ok allora Torniamo qua Stazione Stazione La stazione La direi La possiamo posizionare Qua Così ecco Così ecco Ce la mettiamo La senza in centro Qui così ecco Bene Così abbiamo anche il tram Qua vicino Che ci può portare Le passeggeri Perfetto Perfetto Poi per eliminare Questa casa qua Dobbiamo Poi Qui dobbiamo Collegare Da qui a qui Dalla parte All'altra Del E qui Non funziona E allora ragazzi Dobbiamo spostarla Stazione Ahimè Dobbiamo spostarla Dobbiamo spostarla Poco più in qua Noi Ecco qua Qui va bene Ok E perfetto Adesso si sta bene Poi qui Facciamo il colgamento AX Incrocio AX E qui mettiamo Il semaforo Per evitare Che arrivano I treni addosso Cioè Se vai di Nascontrare Poi qui Colleghiamo Questo qua E qua Direi che Possiamo No La teniamo Separato Questo Magari Possiamo Fare qualcosa Così In questo modo Così E così Magari Per collegare Bene Per tutto Perfetto Poi Per arrivare Fino a Quassù Partiamo In galleria Un bel po' Dico Un bel costo Ci sarà Fino a qui In galleria Ci costato Un bel po' E poi Da qui Fino a Qua Bene E ora Di nuovo Finiamo Quaggiù Che qua Ecco Ci costerà Un po' Di più Mi sa Uguale A prima No Uguale No Un po' Di meno Perfetto Eh Ragazzi Vediamo Quanto Siamo sotto Eh Siamo sotto Un po' Di soldi Qua Mi sa Che Adesso Pian piano Aumenterà Però Vediamo Che riuscivano A coprire I costi Adesso Qua Con Quindi Varie Ferrovie E Forte Le cose Un po' Pi' Forti Qua Ok Allora Vediamo Qua Un po' Eh Questo Qui Sembrerebbe Direbo Forse Qui Proprio Zero Qui Ecco Qui Megliorato Qua Sempre così Non so perché Non capisco perché Di soliti Due bus E anche Le linee ferroviarie Sono abbastanza Forti Da noi Bene Però Non riusciremo a coprire Entro Dice Fino Dicembre Perfetto Ok Allora Oh 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 Un nuovo Locomotiva Ragazzi Un nuovo tram Ah però Qui possiamo mettere Direttamente Il nuovo tram Un nuovo tram Qua Questa Rossa Si E mettiamo Un nuovo tram Che tra poco Dovremmo poter Asportare Passaggieri Qui Fino alla Stazione E quindi Direi che Adesso Possiamo Anche Allungare Anzi No Prima Mettere i semafori Ovviamente Ragazzi Cosa è Importantissima I semafori Non dimenticateli Mai Qui E qui Un po' Tanto Qua Ci sarà Un po' Di attesa Ogni tanto Perché Qui Non possiamo Mettere I semafori Iniziali Dentro Le gallerie Ecco qua Benissimo E allunghiamo La linea La linea Ferroviaria Qua E La allunghiamo Fino E poi La facciamo Tornare Indietro Qui Qui E poi Dovrebbe andare Bene Adesso Ah no Qua ragazzi Aggiungiamo Questa stazione Qui E qua Perfetto Ok Perfetto Perfetto Ora dovrebbe andare Bene Magari Pian piano La sergente Dovrebbe riuscire Ad arrivare Anche fino a lì Fino a questa Azione Tanto Andiamo qua Se la ferrovia C'è La ferrovia Qua Sta andando Alla Alla grande Bene 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 Perfetto Vedere che Per questo episodio Possiamo concluderlo Qui Intanto vediamo Se il treno Passaggieri Arriva E lo seguiamo Anche Ci sono Dei passeggeri Che vanno Ancora in alto Ragazzi Ancora in su Vanno Se guardate Sono 39 Che vanno Verso Un'altra città Un nuovo Nuovo Tratto Ne scenderanno Qua Molto Probabilmente Tanti Eh no Invece No ragazzi Vanno Tutti Su Oh yeah Oh Un nuovo Nuovo Vagone Perfetto La mia ferrovia Entra qui In galleria Passa tutta La montagna Proprio Tutta Mamma mia Che lungo Tratto In galleria E adesso Usciamo E qua Facciamo subito Un passaggio A livello Dopo la galleria A 50 km Li sfrecciamo Intorno Sulla campagna Proprio E arriviamo In stazione Perfetto Perfetto Però poi La gente scende Vai a prendere Il tram Che però Dire Possiamo Allungarlo Fino a qua E sarebbe Perfetto Lungarlo Fino a qua Il tram E ora Qua E quindi Perfetto Adesso Abbiamo il tram Collegato A città collegata Tutto collegato Ed è Va benissimo Qua Io quindi Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Vi ricordo C'era un bel like Iscrivetevi al canale E condivide questo video Qui che potete Attivare la campanilla Quando Così siete informati Quando carico del video E un Vi saluto Grazie Di tutto ancora E ciao